aggiornamenti nobili di ors md che fa vedere anche un po di schiena un femorale pazzesco secondo me sarà un'ottima prestazione quella all'Arnold Classic nonostante ci siano molte persone scelti che nei suoi confronti io voglio essere fiducioso secondo me sarà una bella gara tra lui e Brandao come ho detto molte volte io l'ho conosciuto pochi mesi fa l'ho sentito nominare più volte di nome ma non l'avevo mai visto prima che gareggiasse e mi è piaciuto particolarmente quando ho visto gareggiare al Romania Pro e qui è con il coach Milo Sarcev alcuni ho detto che ha la vita molto larga in questo contesto non sembra ma il punto che il bodybuilding è un'illusione puoi avere la vita larghissima ma se sul palco la vita è in controllo ed è stretta è tutto quello che conta quindi in questo caso il rapporto vita spalla è fantastico le proporzioni sono fantastiche quindi ottimo addome femorali incredibili la definizione sembra molto nobile ottimo 6 chest l'unica cosa che mi fa alzare un po il sopracciglio è il fatto che non faccia mai vedere la schiena però tra pochi giorni avremo le nostre risposte e sono convinto che farà un'ottima impressione quindi non ho dubbi non sono sicuramente tra i suoi detrattori ma più che altro sono tra quelli curiosi di vederlo non sono un sostenitore però sono molto curioso tra l'altro la cosa che mi stupisce di più che mi piace di più in questa 6 chest che è nobilissimo in toto e il femorale davvero fantastico e passando al suo avversario principale Rafa Brandao che qui è con Neil Hill mi sembra molto pieno molto denso sempre estetico abbastanza definito anche i baffi però penso che resterà sempre nel versante piccolo mettiamola così quei bodybuilder open che però sono piccoli non so se sia per mantenere l'estetica non so se sia perché non voglia abbovinarsi o aggigantarsi però non penso che i progressi che vedremo in Brandao saranno mai relativi alla massa sarà secondo me piccata una questione di qualità muscolare una questione di definizione una questione di baffi però non di massa in sé perché è sempre abbastanza continuo nelle prestazioni a livello di definizione di massa di proporzioni di posing non c'è mai niente di ultra aggigantato nel corso degli anni comunque questo posing con Neil Hill fa capire quanto siano importanti le luci guardandolo quanto siano vitali non tanto importanti nel bodybuilding perché fanno o disfano un fisico e in questo caso aggiungono qualcosa in più una cosa che mi piace molto di Brandao almeno in questa posing routine con Neil Hill la densità muscolare soprattutto di deltoidi e pettorali un ottimo fattore secondo me poi chiaramente parlerà il palco però guardando questi video sembra abbastanza definito magari si era appena allenato queste sono altre foto che sono apparse questi ultimi giorni in cui i pettorali deltoidi sembrano meno gonfi forse appunto non si era allenato non ha fatto neanche un po' di pumping come fanno prima di salire sul palco però come ho detto e qui si vede anche in questa muscula comunque non è finita che sia leggermente meno denso guardate i deltoidi come sono separati guardate lo spacco nel petto comunque dicevo la battaglia interessante oltre a quella tra i primi due sarà quella secondo me tra gli altri due che io credo saranno Brandao e Orsem dice io sono abbastanza sicuro che i primi due saranno Samson e Adich dovrebbe succedere qualcosa di cagastrofico per non vedere quei due occupare le posizioni più alte del podio però come sappiamo nel bodybuilding tutto è possibile cioè ci sono miliardi di fattori che sono sempre inaspettati che potrebbero stupirci quindi a sto punto dobbiamo solo aspettare quindi scrivete nei commenti se pensate che la spunterà Brandao se pensate che la spunterà Orsemd parliamo di questa foto di Samson Dauda presa ovviamente dalla distanza siderale rispetto alle foto e video che fa quando fa le pose frontali o laterali e come dico sempre i bodybuilder cercano di mostrare sempre i punti migliori e di nascondere quelli più deboli e secondo me un grosso punto debole di Samson Dauda oltre che la definizione è la schiena perché qui sembra abbastanza denso sembra bello pieno però però c'è lo stomaco che spunta un po' i deltoidi sono fantastici però i deltoidi non possono essere così grossi rispetto ai dorsali cioè guardate quanto è grosso il deltoide il dorsale praticamente non c'è e c'è un po' sempre da storcere il naso quando un bodybuilder fa vedere solo le pose frontali solo le pose laterali e se vi ricordate in questi mesi ne ha fatte molte di routine di video dove fa quelle pose frontali e laterali nella palestra con le braghe calate e di schiena niente e l'unica foto che è posta di schiena è una foto lontanissima neanche frontale ma un po' di tre quarti tra l'altro qui è lui che si allena con Milos Sarcev fa un po' di schiena però non voglio denigrarlo troppo però secondo me è una schiena deludente l'ho sempre detto continuerò a dirlo e sono convinto quasi al 100% che sia una questione di genetica cioè può fare tutti i pullover che vuole può fare tutti i rematori tutti i pulldown tutto il cavolo che gli pare che è genetica un bodybuilder che ha una bella schiena la mette in mostra tipo Nick Walker tipo The Clansford lui non ha una bella schiena ha altri punti forti ovviamente soprattutto il colpo estetico il colpo d'occhio estetico si intende e altri stretti muscolari tipo i deltoidi i pettorali le pose laterali però la schiena secondo me non è tra questi e non voglio che sembri che lo stia denigrando perché io continuo a dire che se dovessi puntare dei soldi per la vittoria di questa Roma Classic continuerei a puntarli su Samson perché mi piace tantissimo però come ho detto altre volte quando un bodybuilder si avvicina ai vertici secondo me deve essere anche giustamente più criticato rispetto a quando magari era lontano quando era in salita e io credo che Samson sia giusto che venga criticato ripeto guardate i deltoidi guardate i dorsali bei dettagli sui femorali buona posa cioè non voglio screditare completamente però non è sicuramente nessun miglio di pose e c'è un motivo se non la fa vedere spesso sui social come tantissime volte il bodybuilder nascondono certe pose certe parti del corpo comunque non è una critica negativa per essere negativa ma è una critica oggettiva scrivete nei commenti che ne pensate buona buona